Scatta a Rosà la settimana dello sport con un convegno sui fondi e le opportunità di mobilità sostenibile che si terrà martedì mattina in municipio. Alle 20.30 invece inizia una serata speciale nel giardino della biblioteca dove fuoriclasse delle due ruote Filippo Pozzato intervisterà il campione olimpico di seguimento a squadra Tokyo 2020 Francesco Lamon. La prontazione è obbligatoria.